Si è svolta in regione una riunione convocata dal presidente Vincenzo De Luca con i componenti dell'unità di crisi e i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere di Napoli e provincia per una verifica complessiva sull'andamento del contagio. In particolare si è fatto il punto sulla disponibilità di posti letto e sul completamento della cosiddetta fase C. Il dato di oggi è stato comunicato nel bollettino quotidiano già trasmesso. Non vi è alcuna carenza di posti letto su scala regionale come paventato da notizie inesatte circolate nei giorni scorsi nel corso della riunione anche in considerazione del quadro epidemiologico e del massivo contact tracing in atto è stato deciso di autorizzare le strutture private ad effettuare tamponi a singoli privati cittadini con obbligo di comunicare gli esiti positivi e negativi alla piattaforma sanitaria regionale. È stata ribadita ai direttori generali l'indicazione di comunicare l'esito dei tamponi in 24-48 ore massimo con particolare attenzione ai casi sospetti nelle scuole. Le strutture competenti sono state richiamate a trasmettere numeri telefonici per consentire l'invio del risultato del tampone via sms come già avviene per alcuni laboratori. Domani è previsto un incontro del presidente De Luca con il ministro Speranza e il commissario Arcuri per una verifica complessiva e per anticipare la richiesta di una fornitura importante di test salivari appena validati. Intanto i contagi familiari aumentano e l'ASL Napoli 2 Nord cerca due hotel, uno sulle isole di Ischia e Procida e l'altro sulla terraferma per ospitare i pazienti positivi al covid asintomatici. Le due strutture saranno uguali per caratteristiche ma differenti per dimensione. Quella delle isole dovrà avere una dimensione compresa tra le 20 e 40 camere, quella della terraferma dovrà garantire tra le 30 e le 60 camere. Entrambi gli hotel dovranno avere per ciascuna camera bagno, tv e telefono, dovranno essere facilmente raggiungibili e garantire l'accesso ai disabili. La necessità di dotarsi di due strutture simili per ospitare i pazienti covid-19 asintomatici o con sintomi lievi è frutto di una valutazione epidemiologica che ha evidenziato come sia estremamente frequente il contagio familiare in contesti in cui il bagno è unico e non vi sono spazi utili per garantire l'isolamento. Questa soluzione inoltre permette di non dover occupare i reparti ospedalieri con pazienti positivi al covid-19 che hanno superato la fase acuta ma non possono essere dimessi in ragione della residua positività. I covid hotel possono rappresentare una soluzione ottimale per ridurre le occasioni di contagio, liberare posti letto negli ospedali e assicurare una migliore qualità di soggiorno ai pazienti positivi. I contratti che l'ASL stipulerà con gli hotel avranno la durata di sei mesi e in caso di necessità potranno essere rinnovati per un periodo analogo. Il bando è consultabile sul sito dell'ASL Napoli 2 Nord.